Qui c'è un tentore magnetico che sente quello che succede, cambia la frequenza, la macchina, cioè, rimane costante nella macchina, cioè, passa da 50-60 Hz a circa 70-65 Hz, 11 Hz, e questo è tutta la macchina. Cerchiamo i 50-60 Hz, macchina su un sforzo, vedete che la macchina non c'è da... e prendiamo la macchina nella fronte orretta, questa prova qui non la supererà mai, mai. Allora, questo è il motore dritto, qui c'è un motore ad angolo, qui c'è una cosa maggiore, perché c'è uno spazio per poterlo fare, e quindi azzurro facciamo i 240 Hz. Allora, non c'è un motore ad angolo, bene pochi.